Per noi questa è una data importante, è una data sicuramente che ci permette proprio di dire, di dare quell'inizio al calcio femminile del sassuolo calcio. E lo abbiamo voluto fare in modo diverso, lo abbiamo voluto fare con la Reggiana Calcio, la Reggiana Calcio con l'amica Betty, perché? Perché la Reggiana Calcio è una società storica, è una società che ha un grande palmares, è una società che ha una sua identità e noi abbiamo una realtà che è il Mappai Stedio, ma abbiamo una volontà, abbiamo un desiderio. Sappiamo che il calcio femminile è in grande crescita, sappiamo che ci sono dei numeri importanti, abbiamo fatto degli studi e io credo che è un po' la filosofia nostra, la filosofia anche della nostra proprietà, che vuole che al di là dell'aspetto sportivo si possa anche portare avanti un progetto etico, un progetto sociale. Credo che il calcio femminile raggruppa tante cose e da parte nostra come società di calcio c'è proprio la volontà di costruire questo progetto, costruirlo assieme, perché la storia, la forza, la volontà, le idee della Reggiana e le idee nostre, perché nel momento in cui noi ci siamo incontrati con Betty in poco tempo, ma veramente nel giro di pochi giorni abbiamo capito qual è la filosofia loro e qual è la nostra filosofia e c'è stato un punto di incontro ben preciso. E allora questo ci ha permesso di dire, ok, costruiamo un progetto assieme, costruiamo un progetto che possa avere una continuità. Questo siamo stati anche facilitati da quello che è la volontà da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio. Io mi ricordo che un giorno incontrai il presidente Tavecchio e mi disse dammi una mano che voglio costruire un progetto sul calcio femminile. Benissimo, da parte nostra c'è subito stata la disponibilità, ma la disponibilità concreta, la disponibilità di voler fare qualche cosa di vero. Noi vogliamo veramente fare qualche cosa che ci dia la possibilità di crescere, ma di crescere quando io dico ci dia, la dia proprio a tutte e due, la dia ad entrambi. La FIGC dà la possibilità anche di poter acquisire il titolo sportivo, piuttosto che la possibilità anche di avere partecipazioni nelle società di calcio, ed ha anche la possibilità di avere la licenza, la licenza per poter acquisire la denominazione e anche il marchio. Noi abbiamo voluto scegliere questa ultima possibilità, la licenza, la licenza di sfruttare il marchio, la licenza di poter avere la possibilità di creare questo rapporto con la società di calcio della Reggiana Femminile. Io credo che oggi sia giusto pensare a quello che potrà succedere nell'arco di un po' di anni. Che dire Betti, noi abbiamo fatto anche una scelta della maglia, abbiamo scelto la prima maglia quella di colore azzurro, perché è l'azzurro mapei, ma è l'azzurro anche Reggiana Calcio Femminile, per cui i colori li vogliamo portare avanti. Avremo i due marchi, il marchio del Sassuolo che è anche il marchio della Reggiana Calcio Femminile, per cui per noi vuol dire questo, una continuità nel lavoro, nel lavoro svolto, perché è stato svolto un lavoro veramente eccezionale, perché mi complimento per tutto quello che ha fatto la società in questi momenti di grande difficoltà. Dovrebbe essere quasi un obbligo, credo, per una società di calcio maschile, contribuire a far crescere anche il calcio femminile. Per me, come ha detto Giovanni, è una data e quindi un giorno mi emoziona, perché dopo 40 anni finalmente vedo la luce. La vedo per me, prima di tutto, per i sacrifici dei miei collaboratori, delle ragazze che hanno fatto parte della società negli anni. questo penso che sia proprio il massimo che una squadra di calcio femminile possa avere. Ringrazio la proprietà, perché senz'altro loro l'hanno fatto perché ci credono. Come ha illustrato Giovanni, il progetto è interessante, io l'ho spiegato alle ragazze, sono entusiaste. Insomma, è un'avventura che sono contenta di cominciare. Ricominciare, il lavoro è tanto, perché è tanto, non è che sia diminuito anche se sono entrati loro, anzi è aumentato, perché ci teniamo. Abbiamo sempre cercato di fare le cose fatte bene, adesso abbiamo i mezzi, cerchiamo di migliorarci, che vengano i risultati, perché poi alla fine anche i risultati premiano. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Il Sassuolo è stato uno delle prime squadre che ha integrato, in questo caso, la Reggiana all'interno della propria società professionistica e sicuramente farà le cose la grande. Grazie. 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 Grazie.